Le fortificazioni sarde dell'arcipelago tra il 700 e l'800, la mostra è di Francesco Sanna, qui al mio fianco intanto complimenti per questi capolavori. Grazie. Capolavori che ti sono costati sicuramente tanta fatica, quanto tempo hai impiegato Francesco? Sì, parecchi mesi ognuno, anche perché si sa che bisogna fare prima la sagoma in compensato, le misure in scala. Perché è tutto impreziosito dalla realizzazione in scala? Sì, se non ricordo male è 1,25 se non ricordo male e poi andare sul posto anche dei fortini realmente che ci sono ancora, fare delle fotografie, vedere più o meno tante cose particolari che non ci sono nei disegni e dunque realizzare questo lavoro qui, ci sono parecchi mesi. Senti Francesco, quanti sono i furtini che hai realizzato?